Dalla mensa all'asilo nido, dall'educazione ai libri scolastici, tutto ciò che può aiutare il reddito del singolo, il reddito della famiglia. Ad Arezzo si parla di welfare aziendale e delle nuove opportunità nella contrattazione. È stato il sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze Pierpaolo Baretta ad illustrare gli sviluppi del decreto che disciplina l'erogazione dei premi di produttività ad una tassazione agevolata mutabili in servizi nel corso di un incontro promosso dalla senatrice Donella Mattesini, dall'Unione Comunale e dal coordinamento provinciale del PD di Arezzo. Tutte le imprese possono usufruirne. Il decreto che abbiamo varato consente una tassazione agevolata al 10% su fino a 2.500 euro per ogni lavoratore e anche con l'idea della partecipazione dei lavoratori a questo percorso quindi tutte le imprese economiche, tutte indipendentemente dalla dimensione e dal numero, possono usufruire di questa opportunità. Un confronto con le realtà produttive e le associazioni di categoria e i sindacati volta a favorire un ulteriore sviluppo del welfare aziendale anche nelle piccole e medie imprese a retine. C'è davvero bisogno di una integrazione perché c'è un'esplosione anche in conseguenza a quelli che sono i cambiamenti demografici. Da un lato l'invecchiamento della popolazione con tutti i servizi necessitati di un'assistenza prolungata nel tempo e dall'altra parte il calo della natalità che vuol dire la grande necessità di sostenere le donne e le famiglie in questa conciliazione di vita. E questo si può fare attraverso una nuova responsabilità collettiva che sta sicuramente in campo allo Stato ma che attraverso politiche integrative, controllate, perché naturalmente l'accordo aziendale vuol dire dare trasparenza a ciò che per esempio oggi non è trasparente. È una grande occasione per ampiare i servizi, nel contempo responsabilizzare le aziende e nel contempo anche chiamare il terzo settore ad una ulteriore capacità di farsi imprese sociali e ciò vuol dire anche creare nuova occupazione, non occupazione all'Iroba, ma nuova occupazione regolare.